tra l'altro non mi rendo conto a volte mi muovo, che quando risponde lui io magari faccio faccia e mi muovo ma comunque sono inquadrati lo stesso devo rispondere io? ah no, mi aspettavo una domanda sulla doc stiamo degenerando, vabbè grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti troppe per i miei gusti, tante comunque diciamo qualche centinaio dalle 5 alle 200 qual è la tua mossa ninja per catturare uno sguardo spontaneo? la mia mossa ninja ho tante soluzioni diverse ma solitamente mi apposto aspettando che qualcuno si giri guardandomi o cose del genere diciamo il classico fishing io arrivo quasi allo scontro frontale se le tue foto potessero parlare che cosa direbbero? probabilmente direbbero ma cosa mi scatti a fare? però scherzi a parte non lo so racconterebbero molto di quello che vedo io scatto molto in questa città e quindi molto di Genova forse torna a suonare il basso ma da solo, mi raccomando qual è il segreto dietro lo scatto che fa ridere? allora intanto avere tanta fantasia è un senso di humor nella vita dopodiché cercare di catturare quelle cose che possono diventare una situazione anche forzatamente nello scatto che possa diventare simpatica quanto meno hai mai rischiato la vita per una foto davvero eccezionale? una volta sì e non era neanche una foto eccezionale ma mi sono ripromesso di non rischiare più stavo cadendo dagli scogli sul mare non è stato bello no mai se fossi una fotocamera quale sarebbe il tuo setting preferito? il mio setting F8 un quattrocentesimo ISO automatici per prendere tutto quello che viene così come è focale definito F8 e i tempi dipende dalla giornata e dall'umore cosa fai quando qualcuno ti chiede di cancellare una foto che hai fatto? è capitato diverse volte di solito affronto la situazione col sorriso cercando di sdrammatizzare il tutto poi senza problemi la cancello se vedo l'insistenza della persona non è mai capitato qual è il soggetto più strano che hai mai fotografato per strada? un soggetto più strano potrei dire forse un uomo ragno convinto che fosse lo stesso uomo ragno che avevo fotografato qualche giorno prima ci ho parlato e ci ho perso del tempo per rendere conto che poi era un'altra persona ma essendo mascherato non l'ho riconosciuto io ho un pagliato se potessi scattare una fotografia o un personaggio famoso chi sarebbe? eh bella domanda ce ne sono diversi però non te lo so dire così sui due piedi Mattulio Sid Vicious qual è il trucco per catturare l'espressione perfetta di qualcuno per strada? il mio trucco quando lo scoprirò te lo farò sapere io non ho trucchi lo inseguo e aspetto che abbia l'espressione perfetta cosa pensi quando qualcuno dice tutti quanti possono fare una fotografia con lo smartphone? io penso che sia vero che tutti possono fare fotografie con lo smartphone anzi tutti le fanno se poi parliamo di buone fotografie quello è un altro discorso molti le fanno anche buonissime con lo smartphone io credo che sia vero con lo smartphone puoi fare fotografie quindi sì se potessi fotografare un momento storico che è passato quale periodo storico sceglieresti? mi piacerebbe molto l'antichità non so il tempo degli antichi romani quei periodi là quel tipo di vestiario quel modo di essere io Inghilterra anni 70 l'esplosione del pan quale scatto ti ha fatto dire ma come cazzo l'ho scattata questa foto? lo sto ancora aspettando credo di non averla ancora scattata con la fotografia non d'accordo con il rock se le tue foto avessero una colonna sonora quale canzone sarebbe? me ne piacciono molte ma ne uso sempre una quando guardo la prima selezione la faccio scorrere sul pc per una prima occhiata ed è un pezzo con pianoforte e voce cantata veramente triste drammatico anche per foto allegra non so perché uso sempre quello è un brano no copyright sconosciuto io my way versione Steve Vision cosa diresti a chi pensa che la street photography sia solo un hobby? secondo me la street photography è molto di più è un hobby ma è un po' uno stile di vita un modo di vivere e di affrontare la strada e la fotografia diciamo un po' restrittivo solo un hobby io gli direi che non è molto intelligente giudicare quale sarebbe il tuo consiglio per uno che vuole diventare un fotografo di strada? passare molto tempo per strada prima cosa sia scattando fotografie che anche no guardare la gente muoversi guardare tutto quello che succede la luce di vivere la strada intensamente io penso che gli consiglierei di sì di uscire per strada di non badare alla fotocamera l'ultimo modello e di e di fotografare molto con gli occhi anche se potessi cambiare un aspetto del mondo attraverso le tue fotografie che cosa sarebbe? vorrei poter togliere un po' di egoismo di grandissima cattiveria a volte gratuita che c'è nel mondo cazzo io non so rispondere tu gli fai domande è troppo difficile non lo so cosa cosa possano cambiare le mie fotografie non ho non ho più palida idea hai mai fatto una foto che ti ha fatto emozionare mentre la scattavi? molte volte anche qualche volta motivatamente alcune volte riguardandole dopo meno motivatamente sì la bambina che mi guarda dalla fermata del bus dietro la mamma quale oggetto strano porti sempre con te quando fai fotografie di strada? porto pochissime cose con me però strano non saprei dire proprio niente niente un coltellino svizzero sei scaramantico? non più di tanto anche se in realtà non ci credo ma è vero come diceva Edoardo no e allora perché porti un coltellino in tasca? no perché devo aprire sempre una bottiglia di birra bravo qual è la differenza tra una buona fotografia e una fotografia straordinaria? una fotografia straordinaria e una buona fotografia anche riuscita molto bene dal punto di vista estetico di esecuzione e che riesce a piacere a più persone possibili penso che la differenza la faccia chi la guarda se potessi intervistare un fotografo del passato chi sarebbe? eh ora sono imbappinato mi piacerebbe parlare forse con Trent Park che è stato veramente un innovatore uno sperimentatore sotto tanti punti di vista anche se è un genere che magari non mi ha mai appassionato in maniera diretta prima l'ho conosciuto ultimamente e mi rendo conto di soprattutto per l'epoca in cui ho vissuto di quanto era un grande eh io con nessuno perché non ne conosco lanciatevi uno sguardo di sfida come gestisci le critiche negative sulle tue foto? non sempre ne ricevo sinceramente penso perché le persone forse evitano di lasciarle ma capisco che non si può piacere a tutti e ci sta anzi se fossero tutte positive mi sembrerebbe quasi una presa in giro e quindi ci sta non me ne curo più di tanto pubblicando solo su Instagram eh le critiche negative non esistono eh nel senso che non le fanno quindi non lo so non mi è mai capitato credi davvero a tutti quanti i complimenti che ti fanno nei commenti? credo che qualcuno ognuno voglia lasciare un segno del suo passaggio e lascia un commento anche positivo che sia sempre così positivo come è scritto ci crede un po' meno ma fa comunque piacere lo stesso a due o tre sì ci ho creduto quanto tempo impieghi per trovare il soggetto perfetto di una fotografia? domanda da 100 milioni soggetto perfetto potrebbe non capitare mai come capitare appena giri l'angolo è molto difficile dirlo dipende a volte non si trova il soggetto perfetto si torna a casa a volte ci vogliono 5 secondi a volte bisogna aspettare delle ore cosa pensi che manchi a molte foto di street photography? manca secondo me la strada vedo tante fotografie e poca strada nelle fotografie di strada di molti non di tutti ovviamente ma manca un contatto diretto di qualcuno che la vive superficialmente e da lontano come una cosa vista da fuori manca il colore come bilanci il desiderio di catturare l'autenticità con il rispetto per la privacy? questa è una domanda difficile ma cerco di ottenere il più possibile della spontaneità ma senza invadere davvero la privacy specialmente quando vedo situazioni che possono essere spiacevoli o di persone che hanno un problema o che in zone ad esempio non fotografo vicino agli ospedali vicino ai cimiteri perché capisco che una persona da quelle parti potrebbe avere avuto un dispiacere grande relativamente da breve quindi voglio proprio evitare la situazione come pensi di bilanciare il desiderio di catturare l'autenticità con il rispetto per la privacy? non mi sono mai posto il problema di rispetto della privacy perché cerco sempre di catturare situazioni eticamente corrette cosa pensi di chi usa filtri e ritocchi pesanti sulle fotografie di strada? allora filtri se a uno piacciono ci sta contento lui ritocchi pesanti se intendi anche sostituzioni di parti della foto non sono d'accordo ma sono sempre delle parere che ognuno è libero di fare come crede sarebbe molto bello se ognuno lo dicesse quando lo fa o almeno diciamo lo ammettesse quando glielo si chiede mi chiederei se usa gli stessi filtri gli stessi ritocchi pesanti anche quando guarda la vita tutti i giorni bella risposta grazie no e cosa pensi dei preset perfetti tanto di moda che stanno regalando tutti di questi tempi quei preset come penso tutti i fotoamatori ho avuto un periodo iniziale in cui li usavo li recuperavo dappertutto per poi renderti conto che nessun preset ho fatto creato per una fotografia andrà mai bene su un'altra fotografia tanto per cominciare e quindi poi ho cominciato a creare qualche mio preset ma alla fine non uso quasi neanche quelli questa domanda mi insegna però penso che sia come Babbo Natale non esiste qual è il soggetto più difficile da fotografare per strada? per me penso i bambini perché evito quasi sempre di farlo cerco di farlo in maniera che siano meno riconoscibili possibile solo ultimamente mi sono avvicinato un po' anche alla fotografia dei bambini ma per me è molto complicato è proprio una cosa mia e avvicinarli è molto difficile per me una stuola che passa davanti a un cinema a luci rosse non riesce cioè è difficile perché ancora non ci sono riuscito quindi sei appostato davanti ai cinema a luci rosse assolutamente da almeno un anno e li frequenti anche? no io da due anni cercavo Rocco no no sto cercando sto aspettando una suola davanti a un negozio un porno shop ma passa di tutto tranne una suola capiterà se potessi collaborare con un altro fotografo chi sarebbe? sicuramente con Samuele ma abbiamo già fatto un'uscita una volta fotografica insieme ce ne sono diversi mi viene in mente un nome a caso Lilio Conte io sono associato di natura quindi non saprei su due piedi boh non lo so nemmeno con Rocco? anche con me hai ragione Rocco scusa ma abbiamo già collaborato cosa pensi delle fotografie che diventano virali sui social media? alcune volte non me lo spiego assolutamente non capisco il meccanismo che ci sia dietro perché molte non lo meritano come fotografie in sé a volte c'è un messaggio particolare per cui diventano virali ma faccio fatica a comprendere anche l'epatite è virale io nelle cose virali non credo molto Qual è la storia più bella dietro una delle tue fotografie? domande così però se non le prepari un attimo prima la storia più bella a livello personale di una mia fotografia è di un signore che ho incontrato quasi senza tetto con cui mi sono astenuto dal fotografarlo anche se lui pensava che l'avessi fotografato dopodiché mi sono soffermato a parlare parecchio con lui l'ho conosciuto e ho conosciuto una persona straordinaria nonostante diciamo la situazione di difficoltà attuale dopodiché mi ha concesso di scattargli delle foto e io ho stampato la foto e gliel'ho portata lui era molto contento di questa cosa senza presunzione alcuna la storia più bella dietro una mia fotografia è la mia se potessi avere soltanto una lente per tutto quanto il resto della tua vita quale lente sarebbe? ti potrei dire uno zoom da 8 a 400 mm così risolvo il problema ho sempre usato prevalentemente 35 mm equivalenti ma ultimamente sto usando veramente tanto tanto il 50 23 mm cosa pensi della street photography in un mondo sempre più digitale? penso che da un lato sia sempre più facile fare street photography per molti sia sempre in espansione però la grande possibilità è il fatto che sembri così facile sono proprio la difficoltà della street photography secondo me che le strade sono sempre le stesse quindi non c'è nessuna differenza tra il digitale e l'analogico di prima quale fotografo famoso pensi che sia sopravvalutato? figa che dobbiamo penso molti penso ora non saprei dirti un nome tra quelli famosissimi Samuele Meggiolaro io sono sopravvalutato non sono neanche valutato io no no aspetta sottovalutato o sopravvalutato? ah sopravvalutato minchia ma è offeso pure allora rifammi la domanda perché veramente è uscita una schifezza quale fotografo famoso pensi che sia più sopravvalutato? direi che ce ne sono molti a scapito di molti meno famosi che sono fortemente sottovalutati però non saprei farti un nome un nome preciso parecchi secondo me sono sopravvalutati tutti quelli che sparano il flash in faccia alle persone qual è la tua regola principale nella composizione di una fotografia di strada regola principale solitamente è l'allineamento dell'orizzonte e il bilanciamento ci provo dei pesi visivi però molte volte scatto anche istinto come capita capita senza guardare neanche nel mirino o nel display per cui a volte la composizione esce da sé non so come dire poi la valutazione la faccio a posteriori se la foto non è buona da scatto non ho una regola precisa di solito scatto distinto a meno che non mi fermi a fare il pescatore allora lì le regole cerco di applicarle il più possibile nelle zone negli spazi negativi e nella posizione del soggetto come gestisci la competitività nel mondo della street photography non mi pare di doverla gestire non sono molto competitivo nella vita in genere neanche nella street photography quando qualcuno che conosco fa una bella foto sono veramente contento che l'abbia fatta magari un pizzico di invidia perché non l'ho scattata io l'unica competizione che ho è con me stesso non mi interessa la competizione nella vita in generale quale superpotere vorresti avere per migliorare le tue fotografie l'invisibilità o il teletrasporto forse più l'invisibilità teletrasporto cosa invidi tra le capacità del tuo compagno la capacità di ai superpoteri Samu no a Samuele invidio la capacità di inquadrare velocemente scene diciamo potenzialmente buone a livello anche di luci di ombre di composizione a scapita di quello che ha detto prima è molto istintivo ma il suo istinto lavora molto bene io arrocco il superpotere che invidio è la semplicità in cui affronta tutte le situazioni se la tua fotocamera potesse parlare quale sarebbe la prima cosa che ti direbbe la mia fotocamera stiamo dicendo la mia buttami nel cestino se la mia fotocamera potesse parlare mi direbbe scatta più spesso ma scatta meno sicuramente perché la faccio stancare la mia mi direbbe ti voglio bene Sam hai mai pensato di intitolare una tua fotografia errore di sistema soltanto per giustificare una fotografia che è sbagliata proprio errore di sistema no ma invenzioni simili qualche volta sì ma non l'avrei comunque mai postata no sinceramente no in una scala da 1 a sono invisibile quanto sei bravo a scattare fotografie senza essere notato da 1 a sono invisibile direi sono quasi invisibile sono invisibile completamente nonostante la fatta se dovessi scegliere tra perdere tutte quante le tue fotografie oppure perdere la memoria quale scelta ti farebbe soffrire di meno interrompo ma la memoria l'intelletto dici beh direi sicuramente perdere le fotografie con grande dispiacere ma anche perché se perdessi la memoria non mi ricorderei di aver scattato le fotografie quindi comunque perderei tutto cazzo io la memoria l'ho già persa quindi mi dispensarebbe perdere le fotografie cosa fai quando incontri un altro street photographer per strada quasi sempre lo affronto comunque quando vedo qualcuno che ha una fotocamera in mano mi avvicino cerco di di chianchierare con lui e soprattutto cerco di portarlo in F4 sempre a me è capitato una volta e mi ha evitato credi che il caffè migliori davvero le tue capacità fotografiche oppure soltanto una scusa per fare delle pause continuamente io sono un caffè inomale per natura quindi diciamo che per me il caffè è essenziale e inoltre è un ottimo motivo per fare una pausa io credo che senza caffè non fare fotografie ma non perché le migliori perché migliora a me se le tue foto fossero un genere musicale che genere sarebbero? nonostante mi avete sempre definito punk penso che non sarebbero punk vorrei sperare alcune rock e alcune musica classica musica classica beh le mie sarebbero post punk hai mai usato il tuo talento fotografico per impressionare qualcuno? visto che quando ho iniziato a fotografare ero già sposato assolutamente non l'ho mai fatto no mai anche perché non ho talento fotografico quindi quale scusa usi quando ti beccano a scattare fotografie in posti dove non dovresti scattarle? quello che mi viene in mente le scuse più impensate però oh scusi non mi ero accorto ma stavo provando la macchina fotografica che si è rotta cose del genere in quanto invisibile non mi è mai capitato qual è la cosa più difficile che hai fatto per ottenere la fotografia perfetta? inquadrare e scattare come veniva al momento uscire per strada hai mai considerato di trasformare i tuoi scatti falliti in una mostra d'arte moderna? sì devo dire la verità ci ho pensato più volte ma non sono abbastanza brutti per fare una mostra post moderna no in una mostra post moderna no però ho pensato di fare una live su F4 con gli scatti sbagliati che non buttiamo perché hanno un perché dietro grandi quanto tempo passi a spiegare alle persone che street photography non significa fotografare le strade? direi pochissimo perché raramente con qualcuno affronto questo argomento e nessuno me lo chiede giusto qualche volta ma raramente io se devo spiegarlo evito direttamente quelle persone qual è il commento più strano che hai ricevuto sotto la tua fotografia? in inglese vabbè comunque il tuo modo di vedere la luce è insano però in senso positivo spero non è tanto non è strano ma è stato un bel commento ed è stato strano figa fammi direggere i commenti strani che mi hanno fatto non lo so cazzo ma mi hai fatto commenti strani e mi fanno gli applausi i cuoricini te ne faccio uno al volo così se mai no ce n'è uno non è strano però è bello va bene lo stesso ogni tanto leverò il cuore per poter come reagisci quando qualcuno ti dice se questa foto avrei potuto farla anche io beh solitamente dico va bene cioè fa piacere falla gli do la macchina in mano se potessi esporre le tue fotografie in un luogo improbabile quale sarebbe aspetta un luogo improbabile nelle scale del condominio in un antibagno c'è un pub inglese hai mai mentito sulla storia dietro una foto per renderla più interessante sinceramente no no non mento mai quale consiglio daresti a te stesso quando hai iniziato a fotografare a me stesso quando ho iniziato il consiglio principale sarebbe di perdere molto meno tempo con tutte le cazzate con cui ho perso veramente un mare di tempo e concentrarmi più sullo scatto e focalizzare su quello che avrei voluto ottenere veramente invece di guardare quello che facevano gli altri e desiderare cose strane cazzo non fa rispondere che è stato male tipo vola lì la salee come si dice dalle mie parti allora il consiglio che darei a me stesso quando ho iniziato a fotografare è esci esci di casa quale consiglio daresti al tuo compagno Rocco non sei mila fotografie un po' di meno dai Samuele potrei riuscire un po' di più c'è stato un momento in cui hai pensato di abbandonare la fotografia per diventare che so un illusionista un illusionista magari no ma abbandonare la fotografia ci ho pensato tantissime volte e molte volte l'ho fatto anche veramente una volta per qualche anno addirittura quindi è capitato no perché non c'è neanche ancora stato il motivo anche perché è scatto da pochissimo quindi qual è la domanda che non vorresti mai che ti fosse fatta in un'intervista tu c'erai la risposta vado io no dico c'erai la risposta tu sì sì dovere la notte del 31 agosto da mezzanotte a luna dov'eri la notte del 31 agosto da mezzanotte a luna ero ubriaco non mi ricordo io neanche mi ricordo probabilmente a casa a scartare fotografie eravate insieme quella notte hai mai scambiato la tua fotocamera con qualcosa di insolito no anche perché difficilmente do la fotocamera in mano a qualcuna no mai qual è la peggiore condizione meteorologica in cui ti sei trovato a scattare in passato condizioni di brutto tempo con pioggia e vento soprattutto per il fatto che la pioggia bagna completamente gli obiettivi ultimamente mi piace scattare con qualsiasi condizione di tempo sempre mettendomi comunque al riparo dal fatto di avere delle gocce così sull'obiettivo dopo tre secondi pioggia e fango però non per fare street ma per fotografare i recchi hai mai avuto un rivale in fotografia? proprio rivale direi di no sinceramente non penso di essere a quel livello no rivali no non ne ho in nessun ambito se dovessi dare un nome alla tua fotocamera quale sarebbe? io la chiamo la coperta di Linus perché specialmente la piccolina la compatta che ho sempre con me a volte non esco di casa neanche a buttare la spazzatura senza di lei la mia coperta di Linus io la chiamo la mia piccolina c'è una foto che ti rifiuti di scattare e perché? come dicevo prima sì foto a persone in grossa difficoltà eticamente non mi sento di farlo penso che non sia giusto a meno che non siano loro a chiederlo per qualche motivo che mi rifiuto di scattare probabilmente non c'è perché dipende dal contesto da cosa si vuole fare poi con quella fotografia quindi a dirti a priori che mi rifiuterei di scattare una foto no che non la farei probabilmente sì qual è la cosa più preziosa che hai imparato dalla strada? ho imparato a vivere la vita proprio anche la vita reale in un modo diverso quando sono fuori guardo guardo sempre la strada come se stessi guardando un film quindi è un diverso modo di approcciare le persone la vita in generale e la strada in particolare io ho imparato che la strada è libertà e la libertà è partecipazione questo l'ho già sentito preferisci scattare da solo oppure in compagnia? direi che assolutamente in solitario non mi dispiace se qualche volta capita in gruppo ma assolutamente da solo da solo da solo quanto è importante il fattore culo nella street photography? è un fattore a volte determinante perché molti non lo ammettono ma se se non c'è anche quel fattore lì a volte non porti a casa niente che ce ne sono tantissimi che hanno quel fattore lì nelle loro foto cosa ruberesti al tuo compagno? la pulizia la pulizia della costruzione della foto la composizione cosa ti piace e cosa non cambieresti della tua fotografia? la mia fotografia mi piace l'uso che faccio della luce anche se scatto spesso in bianco e nero o a colori però mi piace appunto l'uso che faccio della luce perché è una cosa che mi attira molto alcune situazioni mi stimolano proprio a scattare e invece che cosa proprio non ti piace della tua fotografia? quello che non mi piace è a volte giusto la poca attenzione alla pulizia dell'insieme e il fatto di avere sempre bisogno di certi tipi di luce per scattare infatti ultimamente sto cercando come dicevo di scattare in altre situazioni anche meteo proprio perché voglio fare un passo avanti su questa cosa cosa ti piace della tua fotografia? della mia fotografia mi piace il colore e cosa invece non ti piace e cambieresti della tua fotografia? quello che diceva Rocco la pulizia perché sto troppo pulito cosa cambieresti della fotografia del tuo compagno? della fotografia di Rocco cambierei che cazzo cambia la fotografia di Rocco? l'autore che cazzo cambia la fotografia di Rocco? mi piace l'ho trovato l'ho trovato nelle fotografie di Rocco cambierei la situazione meteorologica non molto sinceramente perché è uno stile anche molto vicino al mio per alcune tipologie di foto e ripeto però siccome già gli invidio la pulizia non cambierei un greco qual è il difetto più grande del tuo compagno? vai tranquillo aspetta non mi viene la parola giusta caga cazzo è la parola giusta eh ma sì però non lo posso diventa un difetto Samuele caga cazzo il mio difetto è che sono veramente un rompicuglioni quello è un difetto un difetto di Samuele forse è la sincerità estrema in ogni situazione che può portare quasi a volte a una forma di antipatia ma ce ne fossero difetto di Rocco non lo conosco così tanto per definirlo un difetto è che è un ritardo notario preferisci scattare a colori oppure in bianco e nero? sia a colori che in bianco e nero dipende dalle situazioni dal soggetto dalle condizioni di luce e soprattutto dalle situazioni mie diciamo che di solito a colori fotografo quello che vedo e in bianco e nero quello che sento io contrario di Rocco non proprio il contrario io vivo in bianco e nero e sotto la propria colore cosa è per te F4? che domandona F4 è una comunità in cui mi sono ritrovato quasi per caso di persone che condividono la mia stessa passione in maniera grande e ci credono credono nella street photography credono in un progetto di condivisione soprattutto con gli altri ma condivisione proprio pura cioè condividere per crescere tutti insieme è un progetto bello in cui credo fortemente per me F4 è condivisione libertà Hai mai pensato di realizzare un calendario con le tue fotografie? Un calendario no qualche progetto a volte idee mi vengono poi vanno e vengono passano di mente poi tornano progetti precisi in questo momento no Un calendario no però ho un progetto in mente da fare a Genoa dove c'è Rocco Cosa pensi degli eventi pubblici per strada? Io ho una cosa che faccio spesso quando c'è qualche evento in particolare mi fiondo però cerco sempre specialmente di fotografare più la gente che partecipa all'evento che non l'evento in sé però è una vostra occasione in cui ci sono tante persone facilmente disposte a farsi fotografare Per me va benissimo perché facendo molti nitrati ambientati rubati è un'occasione per farne molti Cosa pensi dei progetti fotografici? Diciamo che io e i progetti siamo un po' su due orizzonti diversi mi sarebbe piaciuto non lo nego a volte mi sono venute idee da seguire ma non sono mai riuscito a realizzare un progetto in maniera profonda scatto da troppo poco sono ancora immaturo per progetti tematici Quanto è importante per te l'attrezzatura nella street photography? L'attrezzatura che mi dicono molti è una cosa che è importante sinceramente però è importante per quello che ti serve fare devi comprare o avere qualcosa con cui ti senti veramente a tuo agio e se questa è una macchina di otto anni fa va benissimo la macchina di otto anni fa non ti serve l'ultimo ritrovato della tecnologia Penso che ognuno debba fare con quello che ha poi se hai necessità di qualcosa in più non c'è niente di male Quanto storytelling c'è nelle tue fotografie? Penso di essere un po' lontano da riuscire a raccontare storie con la fotografia non credo di essere maturo ancora a questo punto Sono d'accordo con Rocco non credo di essere preparato ancora per dire che nelle mie fotografie c'è dello storytelling o comunque ci sarà forse in futuro Cosa pensi quando qualcuno ti dice che non sei un bravo street photographer? Sti cazzi Sti cazzi assolutamente Quale consiglio daresti a chi vuole iniziare a fare street photography adesso? Il consiglio per chi inizia è prima cosa leggiti il manuale della fotocamera che impari già metà di quello che ti serve e poi esci per strada e cominci a scattare ti piace una cosa scatta verrà male te la porti a casa la guardi se hai qualcuno che ritieni veramente valido gli chiedi un consiglio su cosa fare però si guarda cose in rete guarda tutto ma non ti fossilizzare su quello che dicono gli altri perché se gli grandi artisti del passato avessero fatto così penso che molti meno libri di fotografia girerebbero in rete o dappertutto io gli direi tempo iso diaframmi imparati a menadito dopodiché ascolta musica vai alle mostre guardati vai a teatro esci viaggia e tutto il resto viene da sé segui più la regola dei terzi oppure quella della patata? seguo la regola degli ultimi più che quella dei terzi ma no non seguo regole particolari indicativamente a volte mi ci ritrovo dentro però non la seguo in maniera così accanita sono anarchico non seguo le regole come dite qual è la regola della patata comunque fatevi un complimento a vicenda ma fa il culo un complimento Rocco se vuoi no no un complimento a vicenda che non ci conosciamo così tanto bene non ci conosciamo così tanto sei bello magari no però bellissimo siamo sei bellissimo oh Rocco grazie anche tu salutate la community ciao 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 a tutti